Un piano da quasi 23 milioni di euro, quello che porterà alla riorganizzazione generale della rete dell'emergenza urgenza dell'Aslo Salerno. Il programma è stato illustrato questa mattina dal direttore generale Antonio Squillante. La riorganizzazione prevede la nascita di due dipartimenti di emergenza, uno comprendente gli ospedali dell'Agro Nocerino e quelli di Salerno, Battipaglia, Eboli ed Oliveto Citra, più l'emergenza territoriale del 118, e un altro a cui afferiranno Vallo della Lucania, Polla, Sapri e Roccadaspide, più emergenza territoriale del 118. Per i pronto soccorso più grandi in Ocere e Vallo si prevede inoltre l'attivazione dell'osservazione breve. 4. Le aree specialistiche che opereranno con il sistema Hub Spoke. Ospedali di riferimento Hub sono a Nocere Inferiore e Vallo, gli Spoke, i Satelliti, saranno le restanti strutture. Le quattro aree specialistiche sono quella dell'emergenza cardiologica, la Stroke Unit per le emergenze neurologiche, l'unità dei traumatizzati ed infine l'area gastroenterologica. Per quanto riguarda l'ambito neurologico, a Ruggi e all'Umberto I nasceranno due centri di alta complessità. Questo tipo di organizzazione permette ai vari pronti soccorso di interagire fra loro, di valutare la complessità appunto del paziente e di decidere qual è il migliore posto dove trasferire il paziente perché la funzione fondamentale della rete di emergenza, i famosi pronti soccorsi, sono quelli appunto che devono decidere chi ha un problema di salute, dove il posto migliore, dove portarlo. Sicuramente nel tempo minore, però nel posto giusto perché magari noi possiamo risparmiare 10 minuti, un quarto d'ora, 5 minuti per trasportare una persona dal pronto soccorso all'ospedale più vicino, però magari quell'ospedale non ha la possibilità appunto di risolvere un problema, uno shock oppure un problema cardiaco oppure un aneurisma piuttosto che un'emorragia celebrale e quella persona per guadagnare 5 minuti magari ha perso la vita. Migliorano i servizi offerti con il potenziamento di ambulanze sul territorio, sia medicalizzate che rianimative, con l'ex pronto soccorso di Scafati che diventa poi posto di primo intervento. Abbiamo aumentato le postazioni dei PSAUT, dei SAUT e dei punti di primo intervento, appunto l'abbiamo aumentati questi appunto a Scafati dove abbiamo introdotto il punto di primo intervento, abbiamo attivato nuove unità di rianimazione, quindi ambulanze rianimative ad Agropoli e sempre a Scafati, abbiamo introdotto appunto nuove autoambulanze non medicalizzate in alcune zone del nostro territorio che erano particolarmente intasate dal traffico, quindi abbiamo cercato attraverso un attento ragionamento territoriale di dare quella risposta di emergenza al territorio.